For things to give, spare us the cutter, spare us the cutter, couldn't cut the monster. Allora, oggi come testimone per la categoria agroalimentari abbiamo il signor Giovanni Masi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, lei è presidente regionale dei caseari ed è anche proprietario di un'azienda, appunto l'attificio di caseari. Iniziamo con la solita domanda, da quanti anni lei fa questo mestiere? Il caseificio Masi è dal 67, che sta dalla generazione di mio padre. Noi siamo una famiglia che proveniamo dalla produzione, dall'allevamento del bestiame. Poi mio padre ha creato questo caseificio, come in effetti dal 67. Poi ho ripreso le origini dei miei nonni, sono anche io aperto un allevamento di bovine da latte. E oggi noi trasformiamo la maggior parte, latte che noi produciamo, e in più alcuni allevatori in zona, a livello proprio locale. Ecco, nonostante sia comunque un mestiere abbastanza antico questo, no? Siete andati al passo con i tempi, con la tecnologia. Com'è avvenuto più o meno questo passaggio? Sì, noi abbiamo come caseificio investito in tecnologia, anche in risorse umane, però ultimamente, ahimè, risorse umane, la nuova generazione non è propensa a questo tipo di lavoro, perché si lavora più la notte e non il giorno. E noi come casari siamo proprio in fase di estinzione e grazie anche agli investimenti in macchinari riusciamo ad andare avanti. Se no, c'è veramente che ci sono alcuni casari che sono arrivati all'età pensionabile, diciamo, chiudono. Non ci sono il cambio generazionale, proprio perché è un lavoro abbastanza duro. C'è, secondo lei, c'è un motivo per invogliare ad intraprendere questa carriera? È davvero così tanto duro come mestiere? Sì, io credo che si dovrebbe ancora andare più a fondo in crisi, cioè in crisi, proprio per cercare di... perché quello che poi vedo anche in altri caseifici, vedo anche, cioè non sono raziale, però vedo manodopera estera, più manodopera estera che italiana. Questo è un prodotto che, cioè, tipo la mozzarella, la fior di latte, come vogliamo la chiamiamo, è la regina delle paste filate fresche e dispiace veramente perdere questo patrimonio che da anni noi abbiamo, sia divulgato a livello locale, ma a livello mondiale. Però è meglio insegnarlo ad altri che non perderlo del tutto, no? Sì, io sono propenso a disegnare e a trasferire. Io, meno male, sono forse uno dei pochi fortunati ad avere un figlio che oggi sta studiando in un istituto agrario specializzato nel settore casiario e penso che con questa formazione lui mi affiancherà più in là nel lavoro. Allora, lo riteniamo un uomo fortunato per questo. Sì, sì, sinceramente sì. Allora, senta, ci sono stati, credo, dei momenti no anche per quanto riguarda questa categoria. Quali sono le difficoltà maggiori? Sì, questa è una categoria oggi veramente in crisi. Oggi anche le materie prime che sono aumentate, il prodotto finito sul mercato è rimasto ancora stagnante, cioè non si parla di aumenti. Questo cosa fa cadere? Fa cadere che la forbice di margine di guadagno si va ancora a restringere. Però questo si può risolvere secondo me perché io non vedo sul mercato, io vedo nelle nostre categorie, a livello di trasformazione e produzione ci sono i controlli. Però sul mercato, come la vedo io, posso anche sbagliare, non ci sono controlli perché io certe volte vado in giro nei supermercati, in negozi e vedo veramente prodotti anonimi. Oggi non è condivisibile avere questi prodotti perché un caseificio, anche ci sono delle leggi sulla rintracciabilità, eventualmente alcuni identificano i lotti o altri identificano la data di scadenza, via discorrente. Ci sono certi lotti che sono sempre quelli, dal 1 gennaio al 31-12, là sicuramente qualcosa non va. In più noi abbiamo, a livello come caseifici, tante norme da rispettare e che comunque per rispettarle si sopportano dei costi. Una che sarebbe il massimo è la depurazione del siero, la depurazione del siero ha dei costi aggiuntivi al caseificio enormi. Noi, meno male che ci siamo organizzati con gli allevatori a smaltire questo prodotto, che non a smaltire questo prodotto come rifiuto, a renderlo utile in altri processi produttivi. Di conseguenza non è più un rifiuto, ma è una materia secondaria, però primaria. Lei come Presidente di questa categoria, oltre a queste cose che ci ha appena detto, che cos'altro propone per migliorarla? Per migliorare, ripeto, controlli, controlli sul mercato, perché anche creando, tipo oggi c'è la regione Puglia, ha creato i prodotti di Puglia, però anche in un consorzio o in un marchio non ci sono controlli e non andiamo da nessuna parte, non andiamo da nessuna parte. Bene, noi ce lo auguriamo e la ringraziamo per questa sua testimonianza. Grazie a voi. Un appuntamento speciale per la prossima puntata, l'ultima puntata di Mestieri.